Ma guardate, una vincita del centro-destra, questo poco ma sicuro, basta guardare i dati, a 360 gradi, una bella vittoria a Verona con Federico Sboarina, quindi anche lì si va ancora a porre una nuova pietra miliare per un nuovo percorso con Federico Sboarina e quindi con la nostra coalizione. Dall'altro mi spiace per Padova, Padova perché Massimo Vittonci si è battuto come un leone, è stata una campagna lunga, è stata una campagna sicuramente nella quale c'è stato un grande impegno, ovviamente impegno e programma non sono bastati perché poi la logica dei numeri ha fatto vincere Giordani.